Ridurre, regolamentare e sensibilizzare su quali siano le conseguenze. Questo, in estrema sintesi del contenuto delle proposte che il coordinamento del Tiguglio di Mettiamoci in Gioco, rete di associazioni che cerca di contrastare la diffusione e la normalizzazione del gioco d'azzardo, ha presentato ai candidati sindaci dei comuni dell'ASL 4 che andranno al voto l'8 e il 9 giugno. Che i giochi e le scommesse abbiano una rilevanza notevole lo dicono in primisi numeri. Nel 2022 sono stati usati a questo scopo 2 miliardi e 259 milioni in tutta la Liguria. I dati forniti dal consulente della Commissione Parlamentare Antimafia, Filippo Tordigiani, dicono che a Rapallo, tra fisico e online, sono stati giocati 70 milioni, 57 a Chiavari, 45 a Seste Levante, 28 a Lavagna e 25 a Santa Margherita Ligure. La situazione economica è veramente preoccupante per tante persone. Consideriamo noi 6 milioni di persone che sono a rischio povertà. Il problema è che noi quello che constatiamo anche a livello nazionale è che purtroppo il gioco d'azzardo attira le persone più fragili, anche economicamente e socialmente. Questo con l'illusione di riuscire a fare la vincita clamorosa che ti cambierà la vita. Il gioco online è cresciuto molto, soprattutto dopo il Covid, coinvolgendo di più i giovani, ad esempio nel settore delle scommesse sportive. Quello fisico comunque rimane una fetta importante, soprattutto per i più anziani. E molto spesso quello che accade è che chi gioca fisicamente gioca anche online. Cioè c'è un'assoluta, alla fine, unione di queste due tipologie di gioco. Però appunto il gioco fisico, siccome è ancora in questo momento preponderante dei dati che noi avevamo sul Tiguglio, ci fa portare a dire che effettivamente su questo è importante che i comuni agiscono sul proprio territorio. Nel dettaglio le richieste di mettiamoci in gioco ai candidati sono di controllare i punti di aggregazione con slot e VLT sul territorio comunale, aggiornare e monitorare i numeri sui dispositivi sul proprio territorio, adottare i regolamenti per circoscrivere i luoghi dedicati. Infine, ma non meno importante, promuovere iniziative di formazione e sensibilizzazione per la cittadinanza. Negli scorsi mesi sono state presentate sei mozioni in diversi consigli comunali del territorio, portando le istanze di mettiamoci in gioco. Per ora però non si sono viste azioni concrete che hanno fatto seguito ai propositi. Queste mozioni devono essere mandate in Regione e all'Agenzia delle Dogare dei Monopoli in qualche modo per esprimere quindi questa volontà di intervenire su questi temi.